Dal 7 al 14 agosto, Gangi, borgo più bello d'Italia 2014, torna a celebrare la Sagra della Spiga. Evento nato più di 60 anni fa su iniziativa della Proloco di Gangi, che più di ogni altro, attraverso il valore simbolico della Spiga di Grano, richiama la tradizione contadina del bellissimo Centro Madonita, ma anche la sua fondazione, che tra storia e mito risale all'antica Engion, città dove, secondo Cicerone, venne edificato il magnifico, ma mai ritrovato, Tempio delle Dee Madri. Nel programma di questa 57esima edizione tornano tutti gli appuntamenti tradizionali, a partire dalla Festa dei Burgisi, domenica 7 agosto, con la processione del pane dei Burgisi alle 10.45 e a seguire la Santa Messa. In serata, dopo la consueta spartizione del pane dei Burgisi, in programma per le 20, spazio alla satira, con la divertente vagnata della festa, nel centro storico, tra Piazza San Paolo, Corso Umberto I e Piazza del Popolo. Il 10 agosto alle 21, al Foro Boario, la commedia a Zuccatina tazzita, di Manuel Vena, che rievoca l'antico e particolare uso gangitano di chiedere in sposa una ragazza. Giovedì 11 agosto alle 21.30, lunga il viale delle rimembranze, la degustazione delle nove cose, tipica mistura di nove varietà di cereali e legumi cotti in enormi pentoloni di rame. L'evento è realizzato in collaborazione con il Forum Giovani di Gangi. Il 12 agosto, presso l'Aula Polifunzionale, il convegno Circe e Sfinge, certificazione genetica, blockchain e cooperazione nella filiera cerealicola siciliana, cura del Consorzio Ballatore. Domenica 14 agosto è il gran finale con il corteo di Demetra, che sotto la direzione creativa del collettivo The Blades, partirà da Piazza San Paolo alle 17.30, con i suoi oltre 200 figuranti, divisi tra la sezione antropologica, dedicata alla vita dei campi, e la sezione mitologica, dedicata al culto delle dee madri e di Demetra, la bellissima dea delle messi.